buongiorno a tutti allora ormai c'ho l'ansia comunque facciamo per l'ennesima volta questo video so di averlo caricato guardo 5 minuti e 16 due video durava al triplo quindi detto va bene lo rifacciamo news 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 del gigione allora potrebbe tornare l'intenzione quella un musical terza film su questo musical con la musica degli abba avete già capito di che cosa si tratta poi si è sposata lo scorso 11 ottobre la regina più malvagia conosciuta dalla tv della regina malvagia ma l'attrice che faceva questa parte in questo film in tante 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 puntato un sole che adesso spopola su mefris la il proseguimento poi c'è la cantante iconica degli anni 80 che è giunta fino a noi perché ancora adesso è al top del top del top che ne ha combinata la birichino ne ha fatto un'altra delle sue e concludiamo con il regista di uno dei film da libidine che ha fatto la trilogia di questo film che racconta alcuni aneddoti particolari naturalmente ve li dico io riprendendo la sua intervista ma partiamo signori miei con questo film di cui si potrebbe fare la terza parte correva l'anno 2008 quando mamma mia piripiri pipì di filida lloyd è uscito nelle sale cinematografiche diventando fin da subito un car del cinema musicale con una colonna sull'ora unica composta dalle musiche degli abba degli abba il torrentone con berlin street dei panni di donna sheridan amanda seyfried del ruolo della figlia sophie sheridan e il trio dei papà formato da pierce brosnan che faceva la parola di sam carmichael colin fleer che faceva la parte di harry bright e stella stella scarpe della parte di bill anderson ha avuto un enorme successo che nel 2018 è tornato al cinema con babbia ci risiamo diretto da però da all parker ma il pubblico non è affatto stanco e chiede un altro bis o meglio il fris vogliamo il fris vogliamo il fris l'attore ps brosnan è pronto per tornare a recitare cantare insieme al cast di babbia durante una recente puntata di good morning america un membro importante del cast di babbia affermato di essere pronta per lavorare un terzo capitolo della serie si tratterebbe proprio di payers brosnan less agente 007 i mila intestare di black adam il cui interpreta il ruolo di kent nelson ossia il dottor feto se preferite l'italiano il dottor destino che avrebbe esorbito con queste parole ci sto anch'io certo sono sicuro che ci sono dei piani inoltre la producita produttrice judy kreiber ha confessato nel 2020 di aver ideato un terzo musical teatrale ispirandosi ai primi due film e basandosi sui materiali degli app tuttavia il progetto si è dovuto mettere in pausa a causa della pandemia queste le sue parole avrei dovuto occuparvele della mia testa durante questi mesi aveva detto la crime ma poi sono stata colpita dal colpita dalla debbia di covi penso che un giorno ci sarà un altro film perché è previsto che ci sia una trilogia capite che orecchie per intendere intenda questo lo aggiungo io so che la universal vorrebbe che lo facessi quindi come sempre ringraziamo cinematogra.it per averci dato la libidinosa tritta e andiamo avanti con questa seconda notizia alla cui dobbiamo ringraziare ma di fitti fermi perché un'altra delle ditte con cui io prendo spunti la regina più malvagia mai conosciuta dalla tv contemporanea a ben quattro anni dalla fine della serie tv cult il trono di spade ha invitato tutto il cast dello show al suo matrimonio che è avvenuto l'11 ottobre scorso le nozze avvenuti in privato con un'altra grande star del piccolo schermo hanno avuto luogo in italia e ormai vengono tutti in italia siamo paese d'un sole siamo paese l'umare ci abbiamo i laghi belli ci abbiamo tutto bello la cucina bella e quindi tutti a ca tutti a ca arrivano per essere precisi in una regione del sud conosciuta per la sua buona cucina i suoi meravigliosi agriturismi e il suo clima estivo fino ad autunno inoltrato le nozze sono avvenute in puglia alla presenza di personaggi celebri all'immaginario comune oltre al meraviglioso spettacolo contemporaneo adesso scusate al raffreddore ho dimenticato di la al fazzoletto il tovagliolino oltre al davvero meraviglioso matrimonio di una delle cattive più icone che dello spettacolo contemporaneo è avvenuta una vera e propria reunione del cast del trono di spade i partecipanti alla cerimonia erano tutti elegantissimi e bellissimi mostrando quanto alcune icone non li becchiano mai o non smettono mai di essere tali non sto a farvi la lista di tutti quelli che c'erano alle nozze di lena e dai e a dei e a dei però ce ne erano veramente tante gli ospiti vabbè erano importantissimi e tutto quello che volete però chi è lo sposo chi è lo sposo perché voi volete sapere chi è lo sposo e ve lo dico dopo lo starduto lo sposo e la star di ozark mark benciaccia benciacca benciacca la copia era relativamente giovane i due l'ho deciso di ufficializzare in tempi brevissimi la loro sacra unione visto che stanno insieme solo dal 2020 quindi da circa due anni anzi da due anni oramai siamo alla fine del 2022 possiamo dire tranquillamente due anni la ed e ha avuto due precedenti matrimoni il primo col musicista peter paul l'aulogra padre del suo primo figlio e poi è stata sposata con regista dad cadan padre del suo secondo figlio per questo vi dicevo che è un attimino mi ricchi lida birichi o di ricchi la biricò visto che già due matrimoni sei una ragazza giovane due figli con due padri diversi adesso magari fate te lo auguro il terzo figlio anche col nuovo marito e spero che sia una volta buona per tutti e due di stare insieme e chissà magari tra vent'anni quanto farò ancora spero essere il punto primo di esserci ancora appunto secondo se vorrò continuare a fare lo youtube per piacere per divertimento magari tornerò a parlarvi di ricordate che nel 2022 abbiamo parlato di questa coppia ebbene stanno ancora assieme ha fatto il ventennale sarebbe bello però qua questi scritti cambiano barito come cambiare i vestiti o le scarpe quindi vediamo alla terza notiziuola madonna vero dove madonna luise veronica ciccone è una delle cantautrici più famose del panorama musicale mondiale un artista tra le più influenti della sua generazione capace di provocare stupire diventando un icona di stile intramontabile la sua storia comincia nel 1983 con l'album madonna per poi proseguire con tanti altri classici della sua carriera come la che bergine erotica ray of light arcadi eccetera 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 e molti altri grandi successi che hanno consegnato la diva ad un pubblico sempre appassionato e fedele anche ahi beh alle sue follie anche prima di lady gaga è stata proprio lei a lanciare alcune provocazioni davvero mastice e anche oggi nonostante siano passati tanti anni dal suo debutto il suo spirito rimane lo stesso difatti madonna come riportato da tg con 24 quindi b capa